Ha toccato anche la provincia di Arezzo la maxi operazione dei carabinieri forestali coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Ancona contro un'organizzazione che secondo l'accusa trafficava rifiuti elettronici RAI, soprattutto schermi televisivi e tubi catodici che invece di essere riciclati erano abbandonati presso alcune aziende, una delle quali portata poi al fallimento. L'operazione denominata RAI si è conclusa con oltre 11 tonnellate di rifiuti pericolosi sequestrati, un arresto e due obblighi di rimora. Il GIP del Tribunale di Ancona ha anche disposto il sequestro di 3 milioni e 190 mila euro a carico di 6 persone e due aziende accusate di associazione a delinquere e attività organizzata per traffici di rifiuti. Sotto sequestro sono finiti anche i 12 camion. Le misure cautelari sono state eseguite in questi giorni dai militari forestali di Ancona Arezzo, Rimini e Lucca hanno riguardato anche 4 residenti in provincia di Arezzo, un 34enne amministratore dell'azienda in questione finito ai domiciliari, un 68enne ed un 66enne colpiti invece dall'obbligo di dimora ed infine un 56enne colpito da una misura interdittiva. Sono tutti accusati a vario titolo di associazione a delinquere e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti speciali e falso in atto pubblico. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero infatti costituito un'organizzazione criminale che avrebbe portato all'accumulo di 11.000 tonnellate di rifiuti pericolosi prodotti dalla frantumazione di monitor e televisori a tubo catodico. I rifiuti sarebbero poi rimasti abbandonati presso due aziende di cui una nel comune di Agugliano, un'area peraltro vincolata paesagisticamente e percorsa anche da un torrente.